E che ascia l'ha mai studiato inglese? Eh, era chiusa la scuola. Non lo so, ci dovete parlare. Come ogni settimana, passerò il rassegno alle scuole come un metro shader desiderato. E questa che cos'è? Che cos'è questa, palla di lardo? Signore, ciambelle con crema, signore. Ciambelle con crema, ma? Ti è vietato portare il cibo fuori dalla mezza? Falle sparire, palla di lardo. Signore, sì, signore. Adesso te mi sembri in ottima forma. Fammi vedere gli esercizi. Sì, signore. Subito, signore. Bene, soldati. E adesso, quali novità avete? Signore, abbiamo raffitto, eh, guglioni? Non l'avete fatto, stupido ammascio di ferraglia. Ma signore, pensavamo che l'avete fatto bene. Incompetenti, liberatela immediatamente, altrimenti risarcerò che l'inica. Mi mando, ma sono erano. Era ora che mi togliete quel papaglio dalla bocca. Adesso chiamerò le tartarughe. Il tente da lei ha matto e non è distendere o sta mangiando pizza. La posta che non è disponibile, quindi non lo viviamo proprio. Grazie per rivederci. Ho capito. Qui, da portegare alla patola. Mission complete. Grazie, rinvenitevi ve lo scendente. Grazie.